Il 7. inauguriamo la nostra biblioteca, che è una biblioteca specialistica, specializzata per testi teatrali, libri teatrali. Il 7 alle ore 17.30 presso la nostra compagnia. Inauguriamo questa biblioteca, Biblioteca Teatrale della Piccola Ribalta. Un patrimonio che parte praticamente dalla nascita della nostra associazione, che risale nel 1950, che appunto contiene 1700 volumi teatrali, oltre poi altri 2000 volumi di riviste teatrali, insomma di ogni genere, dal sipario a ridotto. Ci sarà poi il nostro vicepresidente Mario Cipollini, che è un po' la memoria storica e che quindi potrà raccontare un po' la storia, come è nata questa nostra biblioteca, quali sono le donazioni. Io ne vorrei ricordare uno tra tutti, Annibale Ninki, perché noi abbiamo avuto tra i soci anche la famiglia Ninki. E quante dediche, quanto lavoro c'è stato anche in precedenza per cercare di organizzare questo materiale, che era veramente notevole, insomma, in termini qualitativi e quantitativi. Il punto di svolta è stato dato dall'acquisizione di un fondo, il fondo appartenuto a Nivio Sanchini, una figura un po' dimenticata oggi, insomma, che noi vorremmo poi valorizzare nuovamente, un attore e regista pesarese che ha portato il teatro in giro per il mondo, insomma, insieme al suo gruppo attoriale che stiamo recuperando e con il quale faremo poi una serata dedicata proprio alla sua figura e al suo teatro. Con il suo fondo di 450 volumi ci siamo resi conto, insomma, che avevamo la quantità giusta per poter procedere e diventare una vera biblioteca pubblica. Ci tengo a dire, una biblioteca che sarà aperta al pubblico, che è già visibile nel catalogo online della Regione Marco, quindi si può accedere per il momento solo alla visione, alla consultazione, perché chiaramente essendo un'associazione dobbiamo ancora organizzare il discorso prestiti, anche se il document delivery, per esempio, si potrebbe sempre fare. e questo è un punto d'inizio, speriamo, di un'avventura che possa durare nel tempo.